Parliamo adesso di come inserire gli impianti dopo aver ricostruito l'osso in senso verticale. Abbiamo visto come in base alla tipologia di difetto, quindi alla base ossea, in base alla quantità di osso che riusciamo a recuperare attraverso il prelievo, possiamo ricostruire la cresta con un blocco occlusale e uno laterale piuttosto che due lamine, una vestibolare e una linguale parallele quindi tra loro. Vediamo adesso due casi dove andiamo ad inserire gli impianti e dove antecedentemente è stato ricostruito l'osso, uno col blocco occlusale e uno con le lamine parallele. Quindi andiamo a vedere quella che è la linea di incisione, andiamo a vedere come levare il lembo, come gestire la preparazione del letto implantare, come gestire ovviamente i tessuti molli, come procedere con il concetto di relining, quindi di protezione del volume ricostruito e la chiusura della ferita. Molti di questi passaggi riflettono quello che abbiamo già visto in fase di aumento come la linea di incisione che sostanzialmente è una replica dell'incisione dell'aumento osseo dove le linee di rilasciamento possono essere spostate anche di un singolo dente rispetto alla zona di interesse chirurgico, cosa che invece avevamo fatto diversamente dove erano state spostate di due denti durante l'aumento osseo e anche l'incisione di rilasciamento distale assume dei connotati dimensionali più ridotti. Vedremo l'elevazione del lembo che è importante perché noi dobbiamo elevare l'embo ma lo dobbiamo elevare anche in modo gentile, con cautela, per non ingaggiare quello che è in modo errato, quello che è il piano osseo ricostruito. Questo perché non abbiamo l'irregolarità di una cresta naturale, abbiamo ancora un'irregolarità dettata dalla maturazione in fase di progressione dell'innesto stesso, abbiamo la presenza delle viti da osteosintesi, quindi è una gestione che deve essere molto attenta e molto accurata. Vedremo poi la preparazione del letto implantare che deve essere una preparazione generosa, cosa vuol dire? Dobbiamo evitare di sottopreparare i siti e lo vedremo nel dettaglio, quindi seguire tutta quella che è la procedura per la gestione del letto implantare, seconda della casa implantare che stiamo inserendo. Ovviamente la gestione dei tessuti molli perché chiederemo un ulteriore scivolamento coronale dei lembi stessi perché con il concetto del relining faremo una piccola gbr con un aumento di un millimetro, un millimetro e mezzo che però va compensato a livello dei tessuti molli. Per chiudere poi la gestione dei tessuti molli che è molto simile a quella che abbiamo visto, anzi è sostanzialmente identica, quindi con tre livelli di sottura, una rompiforza e profonda, il materassai orizzontale per interfacciare la faccia interna dei due lembi e poi la sottura semplice che accompagna e completa l'adattamento della ferita stessa. Lo vediamo ovviamente attraverso un video, lo vediamo attraverso gli step chirurgici che andremo insieme ad analizzare. Quindi vediamo il primo caso che è un caso dove le lamine sono state posizionate parallele tra di loro.